Bruttissima situazione alla Dacia Arena, molta preoccupazione perché il difensore centrale in Dica è caduto a terra avvertendo un dolore a petto e la partita si è sospesa a 75esimo minuto quando mancava un quarto d'ora alla fine per le preoccupazioni di De Rossi e tutti i giocatori in quanto naturalmente gli eventi sono terribili, ricorre anche l'anniversario del decesso di Morosini dove il cronista di Dazzonna ha un po' aumentato l'ansia da parte di tutti la partita onestamente passa in secondo piano perché quando c'è un giocatore che comunque all'uscita in barella ha utilizzato il pollice su tranquillizzando compagni, staff e tutti la partita passa in secondo piano, va detto che ancora una volta De Rossi sbaglia la scelta di riproporre una difesa a tre che non ha pagato sia per atteggiamento mentale che per atteggiamento tecnico che per qualità dei singoli individui Aysen dimostra tutti i limiti della giovanità e non è il primo errore, derby, frosinone, oggi il ragazzo ha qualità ma ne deve mangiare di pagnotta la Roma naturalmente passando al 4-2-3-1 con il solito caro fisico dei Friulani con l'ingresso di Di Bala Di Bala e Baldanzi hanno messo in gran difficoltà gli avversari che erano apparsi a tappeto il go di Lukaku che non segnava dei tempi di Monza, undicesima sua marcatura in Serie A aveva portato il pareggio agli uomini De Rossi che sembravano pronti alla vittoria adesso sarà molto particolare recuperare una partita per un quarto d'ora vedere perché l'udinese era a tappeto fisico, la Roma sembrava poterne avere il possesso quando verrà recuperata, come verrà recuperata, quale sarà la condizione delle squadre insomma una condizione veramente difficile da comprendere io la cosa che voglio dire però oggettivamente devo dire la verità è stato bello che tutti hanno trovato una soluzione che si abbia avuto un po' di sensibilità in un mondo talmente attento al dio denaro che si perde i valori questo tipo di situazioni sono molto preoccupanti, molto pericolose, angoscianti è giusto portare rispetto speriamo in un pronto recupero per l'indica Udinese-Roma sospesa vedremo quando si recupererà un abbraccio al difensore, un abbraccio a tutti grazie tutti invaders-Roma